Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano codi e tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per i lavori notturni in A1, domani notte e martedì notte in orario 21.6, chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio verso Roma, di conseguenza chiusa l'entrata di Pian del Voglio verso Roma e chiuso lo svincolo di Roncovilaccio in entrata verso Roma in uscita provenendo da Bologna. Per i treni, a causa di un allertamento arancione, per criticità idrica e idrogeologica, oggi la circolazione ferroviaria è sospesa tra Faenza e Marradi. In servizio sulla tratta è previsto con autobus, circolazione regolare tra Marradi e Firenze. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie per la visione!